Mr. Pirovano, un 2-2 arrivato nei minuti finali, comunque un buon punto contro una squadra che lotta per i play-off? Diciamo che secondo me è una grossa squadra con un centrocampo veramente forte, ben organizzata, difficilissima da incontrare. Per noi oggi secondo me alla fine è un punto positivo, perché comunque siamo stati bravi, abbiamo sofferto, abbiamo provato a giocare. Se devo dire, forse il rammarico è la palla che ha avuto Curab per forse chiudere a quella del 3-1, però è anche vero che quando uno lo fa non lo fa certamente apposta, di conseguenza onestamente alla fine per come si è sviluppata la partita direi che è un pareggio giusto. Dispiace, è chiaro, rimane un po' da mare in bocca perché mancava 5-6 minuti, però ripeto, con onestà nell'economia della partita il pareggio è risultato giusto. Domenica prossima scontro decisivo contro il Borzoli che è impegnato nella lotta play-out. Diciamo che per noi quando parti male sono tutti scontri decisivi, di conseguenza ci siamo posti l'obiettivo di giocarle una per volta e questo stiamo facendo. È chiaro che la domenica è una partita per noi quasi fondamentale, ma anche per loro di conseguenza andremo a vedere con lo spirito di oggi di non mollare mai, poi vedremo cosa succede, tanto il campo alla fine è sempre una giornata a lui.